32 fotografie per ripercorrere i cambiamenti culturali del Piemonte negli ultimi 70 anni e la mostra Augusto Cantamessa Atmosfere Piemontesi inaugurata a Palazzo Lascaris nell'ambito delle celebrazioni per il 50esimo anniversario della regione. Un percorso per raccontare luoghi e persone, per guardare il cambiamento di città e campagna attraverso gli occhi di un artista che ha portato la storia del Piemonte nel mondo. Il maestro Cantamessa con la sua capacità di prendere, di cogliere un attimo sia riuscito a far sì che noi quando vediamo una foto possiamo vedere la profondità delle cose. Al mondo oggi, grazie anche al maestro Cantamessa, ci sono sicuramente più foto che mattoni però la bellezza delle foto è che non c'è una foto uguale ad un'altra. Dai giochi dei bambini sulla neve ai contadini al lavoro, dalle donne che ricordano la natività alle persone che vivono nei quartieri popolari torinesi. Gli scatti di Cantamessa, rigorosamente in bianco e nero, fanno immergere in una realtà lontana. Una marcord con un filo di malinconia per chi quegli anni li ha vissuti, un pezzo di storia da conoscere per i più giovani. Abbiamo una prima sala che si apre su quella che è un po' l'immagine guida sia della mostra ma anche, se vogliamo, di tutto il patrimonio fotografico di Augusto Cantamessa che è breve orizzonte e che è una visione di un paesaggio, un paesaggio di una straordinaria quotidianità, se vogliamo. Nella seconda sala accogliamo quella che è la poetica di Augusto Cantamessa, ovvero questo modo di porsi di fronte alle cose e di attendere che qualche cosa di interessante fosse degno di essere immortalato. La mostra Augusto Cantamessa Atmosfere Piemontesi sarà visitabile fino al 6 marzo a Palazzo Lascaris, Sala Carla Spagnuolo, da lunedì al venerdì, dalle 9 alle 17. Sala Carla Spagnuolo, da lunedì al venerdì. Anzi, grazie a tutti. Grazie.